Buongiorno, benvenuti alla Segna Stampa 13 settembre, vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi. Innanzitutto un tema economico ed è ovvio che si apra su questo, cioè la Banca Centrale Europea, Mario Draghi, prima di lasciare la guard, ha deciso di usare il bazooka, come qualche giornale oggi lo definisce, cioè sostanzialmente ha definito due cose, e cioè da novembre continuerà a comprare, aumenterà gli acquisti di titoli di Stato dei 27, no non tutti i paesi europei fanno parte dell'euro, quindi comprerà per esempio i BTP, e questo sì che dà una mano allo spread, non le altre minchiate di cui abbiamo parlato in questo periodo, ed ha abbassato di 10 punti base i depositi presso la Banca Centrale Europea. Oggi se tu vuoi depositare dei soldi, ovviamente le banche, presso la BCE, devi pagare lo 0,5%, cioè tassi negativi sui depositi, una roba molto forte che dovrebbe mettere liquidità nel sistema, cioè sostanzialmente la politica monetaria è quel sistema per spingere l'economia, però come qualcuno dice è difficile spingere un cavallo, il cavallo lo si può far abbeverare, certamente gli puoi dare delle cose più buone da mangiare, però se il cavallo non vuole andare non va e lo stesso Draghi ieri ha chiesto dunque che ci pensino gli stati nazionali a darsi da fare per riprendere. Rampini oggi nota, ma lo nota non solo lui, come si sia arrabbiato Trump per questa operazione per due motivi, la potete leggere così, ha fatto un tweet, il primo perché la sua banca centrale, la Fed, non sta riducendo i tassi e lui vorrebbe che la Fed le riducesse, ma come sapete le banche centrali dovrebbero essere indipendenti della politica. La seconda questione che pone Trump è che se tu abbassi i tassi in Europa l'euro si abbassa di valore rispetto al dollaro e se l'euro si svaluta rispetto al dollaro cosa succede? Che le esportazioni di Germania e d'Italia sono più facili in America e Trump si arrabbia. Ma Shandaro, sul Sole 24 Ore e qui la chiudiamo, dice che sostanzialmente cari amici, con questa manovra Draghi non ha esagerato, non ha fatto né il falco rigorista come i tedeschi, né non fare espansione della politica monetaria, ma non ha fatto neanche il prudente. Insomma una via di mezzo, un Draghi equilibrato, intervista, la prima intervista il ministro dell'economia, l'ex comunista, anzi il comunista Gualtieri con chi la fa? Repubblica, il giornale meno governativo che oggi ci sia, tra i meno governativi, e dice via dal deficit e gli investimenti verdi. Ecco, l'ideona del ministro dell'economia è l'idea di tutti i ministri dell'economia che si sono susseguiti negli ultimi vent'anni, tecnici e no, è un po' in linea con quello che ha detto Mattarella. Cosa vuol dire questo? Rendetemi la vita più semplice, cioè nel deficit fino a ieri si metteva tutto quello che spendeva l'Italia, ma invece di mettere tutto quello che spende l'Italia, se noi facciamo degli investimenti e per di più verdi non me li considerate. Questa specie di idea comunista che il verde va bene e il rosso no, vabbè, insomma ormai siamo su questa roba, tutto quello che è verde va bene, non deve entrare nel deficit, la sapete come la penso su questo. Poi dice che non cambierà quota 100 e il reddito di cittadinanza, e questo è interessante perché si impegna a farlo, poi dice che non ci sarà una patrimoniale e che poi viene archiviata la flat tax perché si tratta di una violazione della progressività. Di tutte queste cose sapete a cosa credo? Zero, zero. L'unica cosa a cui credo che non farà la flat tax perché ovviamente la flat tax è ideologicamente contrario a un comunista come Gualtieri alla flat tax, lo dico in senso tecnico comunista, è scritto alla FIGC, uno dei vecchi veri comunisti che ancora esistono in questo paese e quello che lui farà è, come scrivo oggi io sul giornale, scusatemi se mi cito, qualcuno di voi si può fidare di quelli che dissero read my lips, non farò mai un'alleanza come 25 stelle e poi la fanno? Vi potete fidare se dicono non farò mai la patrimoniale e poi una piccola patrimonialina in qualche maniera giustificata da qualche cazzo loro la metteranno? Io non ci credo. Detrazioni e deduzioni, invece mi sembra di capire che il sole 24 ore dice che su questo si lavorerà e cioè qual è l'idea? E che tu in realtà ti possa detrarre dall'IRP solo quelle cose che hai pagato col banco, matto con moneta elettronica, un po' come avviene peraltro per le ristrutturazioni edilizie che ci vuole un bonifico certificato, però questa cosa non ha nulla a che vedere con quell'altra roba che hanno fatto in Portogallo che effettivamente ha fatto emergere molto nero, perché in Portogallo cosa ti dicevano? Vuoi pagare il meccanico? Vuoi pagare il ristrutturatore? Vuoi pagare l'architetto? Vuoi pagare il dentista? Vuoi pagare il ristorante con la carta di credito? Ebbene, ti do il 15% di detrazione su tutto quello che paghi con la carta di credito, questo si chiama conflitto di interessi e grazie al cavolo che in quella maniera aumentano le detrazioni, ma questa idea italiana di detrarre solo attraverso la carta di credito le attuali detrazioni secondo me porterà soltanto a maggior costi per i più deboli che non hanno le carte elettroniche. Elezioni regionali si fanno tra Movimento 5 Stelle e PD, insomma si sente tutto il contrario di tutto. L'intervista della Lombardi, un amo del Movimento 5 Stelle che conoscete bene, la vecchia Lombardi, insomma è stata una delle prime deputate del Movimento 5 Stelle, dice è finito il tempo del baffa, questi si mettono d'accordo. Invece nell'Umbria, secondo il fatto, Rulo di Tamburi, chi sarà il candidato in Umbria del PD e che potrebbe andare al Movimento 5 Stelle? Cucinelli, quello del Kashmir, quello che quando parla sembra San Francesco, poi ovviamente c'è un'azienda miliardaria e i suoi dipendenti vengono trattati come tutti i dipendenti, cioè da dipendenti, ma comunque il fatto che il leader di una grande azienda in crescita, peraltro giovane, si metta a fare il leader in Umbria del PD, io non ci credo e se lo facesse sarebbe per l'azienda un disastro, non tanto per l'Umbria. Sui sottosegretari continuano a litigare, il fatto si indigna, Rissa infinita e fa la lista di proscrizione di quelli che lei non vuole, il fatto come sottosegretari non vuole De Luca, non vuole Lapaita, non vuole Legnini, tutti i criteri delle liste di proscrizioni tipiche di questi, diciamo come un tempo loro avrebbero definito gli altri, fascistelli, non una lista di proscrizione, oppure comunistelli, non lo so come definirli meglio, la lite dei grillini però pare si risolva stamattina con il giuramento. Poi ricordarete che ieri Alessina e Giovazzi si sono inventati in prima pagina quelli che controllano i loro pezzi, quelli che ci spiegano come va il mondo, in prima pagina scrivono su Corriere della Sera che la Morgese è un ottimo ministro, ci sono degli spiragli di grande novità con questo governo e la Morgese tra l'altro è un ottimo ministro perché si tratta della prima donna al Viminale, ovviamente questo non è vero, l'ho scritto sul mio sito internet ieri pomeriggio, se ne saranno accorti anche loro, mi chiedo a cosa ci siano a fare per i fondi in prima pagina del Corriere, che non è il giornale, non è il sito di Nicola Porro, è il Corriere, ma non se l'ha letto nessuno quel pezzo, la Cancellieri e la Rosa Russo Iervolino erano ex ministri degli interni, donne fino a prova contraria anche loro, quindi avevano scritto una fake news pazzesca, la Morgese non è la prima donna ministro degli interni, oggi chiedono scusa, bisogna darvi atto sul Corriere della Sera, ma d'altranno li abbiamo un po' sputtanati tutti quanti noi e dicono il fatto che noi abbiamo scritto che la Lamorgese non sia, abbiamo scritto che era la prima donna, ma in realtà non lo è, dimostra quanto sia radicato il pregiudizio di genere anche in noi, e cioè che anche loro sono un po' maschilisti, ragazzi si sono bevuti il cervello, questi sono stati troppi in America, il fatto che loro abbiano scritto che la Lamorgese è la prima volta che ci sia un ministro donna, non dimostra il loro, come possiamo dire, preconcetto di genere, dimostra che non vanno su internet, dimostra che sono superficiali, dimostra che hanno un pregiudizio ideologico, dimostra che amano questo governo, dimostra che vi dicono delle cazzate ma sono professori e allora tutte le loro cose, non c'è nessun pregiudizio di genere, io sono convinto che Giavazzi e Alessina non abbiano un atteggiamento maschilista, ma che non sappiano fare www.ministeriodegliinterni.it e controllare quello che loro scrivono, e non perché c'è un pregiudizio di genere, ma perché c'è un pregiudizio a favore di un governo che non abbia Salvini al loro interno, punto, il pregiudizio di genere non c'entra a nulla, non scomodiamo pregiudizi di genere per la sciatteria di due professori universitari, no? Vabbè, disoccupazione al 9,9%, i dati dell'Ista di ieri e qua dimostrano un altro pregiudizio, l'ignoranza di Travaglio in economia, ieri i dati della disoccupazione dimostrano che il conte 1, quello fatto da Salvini e da Di Maio, in realtà non ha lavorato così male, il decreto di dignità non era una schifezza e dimostra come queste cose le scrivono solo i talk show, caro Travaglio, leggiti Di Vico, leggiti quello che scrivono i giornali che magari un po' di economia capiscono qualcosa, non quanto Alessina Giavazzi, ma un pochino più di te, il dato ieri dell'occupazione non è positivo, perché il numero assoluto, lo spiega bene oggi il Corriere della Sera, del 9,9%, vuol dire sì che ci sono più occupati, ma secondo la vostra retorica, la vostra Travaglio, sai quale è il piccolo problema? Che lavorano meno ore questi occupati, il che vuol dire, come dice Travaglio, che si parla, come dice, scusatemi, di Vittocco, di un cosiddetto part-time involontario, lavorare tutti, guadagnare meno tutti, lavorare peggio tutti, e questa è la soluzione del mondo del lavoro, se questa è la soluzione del mondo del lavoro, andiamo avanti così, per i pochi fortunati che invece un lavoro fisso ce l'hanno, e cioè quelli che vengono assunti dallo Stato. Il reddito di cittadinanza, secondo la verità, cambierà, perché sarà un reddito di cittadinanza che verrà esteso di più agli stranieri, perché toglieranno il parametro di 10 anni di residenza in Italia e faranno meno controlli sui loro beni all'estero, vedremo se è vero quello che dice la verità, e infine Roma, le scale mobili, un disastro, ne hanno indagato quattro persone, ma l'appunto vero lo schiva oggi Franco Becchis, sapete qual è il disastro di queste scale mobili? Che l'appalto per la manutazione delle scale mobili è stato finto grazie a una gara d'appalti al massimo ribasso, l'efomoso codice d'appalti fatto da Renzi, da tutti quelli prima di lui, fenomeni, e questo codice d'appalti prevede che vincano i massimi ribassi, e il massimo ribasso è del 50% rispetto al valore di mercato, e allora dice Becchis, ma se tu compri una cosa al 50% in meno del prezzo del mercato, o il prezzo del mercato è sbagliato, o lo sconto che stai facendo presuppone che tu la manutazione non la faccia. Secondo voi quale delle due ipotesi è venuta per Roma? Io ho la risposta molto semplice. Sul sito nicolaporro.it in questo momento potete trovare un pezzo favoloso di Gervasoni, ve lo consiglio, come Facebook e i giallorossi vogliano la censura, non solo Casa Pound, ma il politicamente corretto di Facebook e del nuovo governo. A più tardi, come si dice, a dopo, mi raccomando, andate sul sito nicolaporro.it. Ciao!